Sono un rinvio in attesa di definire meglio il progetto portato avanti dal governo, che almeno inizialmente doveva far parte del decreto Sblocca Italia. La riforma del sistema portuale resterebbe sempre sul tavolo dell'Esecutivo Renzi, in questi giorni impegnato su altri fronti. La questione resta in itinere, da qui la necessità di non farsi trovare impreparati e ipotizzare soluzioni alternative a quelle annunciate e poi sospese di accorpare le autorità portuali di Salerno e Napoli. A dirlo il presidente dell'autorità salernitana annunziata, per il quale la vera scommessa sarebbe creare un coordinamento unico campano, guardando anche agli altri scali. La verità è che sulle scrivanie del mondo ci sono le rassegne stampe nostre e quindi quando si vede la performance di Napoli negativa e quella di Salerno che continua a crescere me la fanno questa differenza, ma poi spesso non abbiamo la capacità in senso di possibilità di accogliere sempre più navi, sempre più merci, perché questo è il nostro porto e allora dico c'è anche Napoli, c'è anche Torre, io guardo la portualità campana perché è la nostra terra e quindi cerchiamo di dare una mano anche a loro, però il problema della governanza ha portato problemi enormi a Napoli che in questo momento farebbero solo danno anche a Salerno nel caso di un accorpamento. Altra questione è poi quella di ampliare gli orizzonti e di ipotizzare un organismo unico che mette insieme porti ed aeroporti semmai anche solo a Salerno. La questione della grande logistica è importante per mettere insieme e coordinare come dicevamo prima le varie modalità del trasporto, compresi gli interporti che devono riprendere vitalità laddove c'è qualcosa o mettere in campo qualcosa di nuovo. Abbiamo un aeroporto che è unico nel suo genere, nel momento in cui avremo l'aeroporto con la pista allungata, il nostro aeroporto è uno dei pochi in Italia che può fare cargo, può fare cargo perché la pista va verso il mare, non c'è urbanizzazione, per cui rispetto a Napoli che deve chiudere alle 10 di sera, Salerno può lavorare 24 ore su 24, il cargo e quindi le merci si fanno di notte perché gli slot, cioè le strade del cielo sono libere e costa di meno, per cui daremo maggiore vitalità alle nostre eccellenze agroalimentari e in più investimenti perché laddove c'è un'infrastruttura di trasporti che funziona, questo è un principio semplicissimo dell'economia, laddove c'è un'infrastruttura di trasporti, porto o aeroporto che funziona e addirittura quando tutte e due insieme funzionano c'è un attrattore di investimenti fenomenale.